cappellino cecoslovacco m60 ex dismissione dell'esercito cecoslovacco e mimetizzato con uno striktarn con delle macchiette verdine al suo interno che lo differenzia dal mimetismo della germania est al parte superiore a questa parte che si sbottona si abbassa in funzione antivento e si può bottonare sotto tramite questo bottoncino di questo piccolo bottoncino che vedete qua sotto poi troviamo questa parte superiore che si è abbottonata anch'essa si può allungare distendere e diventa una mentoniera per agganciarlo sotto il collo la linea è particolare è un tessuto molto solido la visiera è semirigida al suo interno ai loghi in questo caso vediamo tonac il nome della città probabilmente le due spade incrociate caratteristico simbolo della i reparti cerchi e la taglia tessuto molto solido tutto in cotone internamente foderato un po della marrone e sul bordo abbiamo questo stesso tessuto in cotone